Si può scegliere la prima lingua, la seconda e addirittura la terza, oppure se avvalersi o meno della religione cattolica nell'atto dell'iscrizione alla scuola. Quello che però pare come obbligatorio è il versamento di 130 euro sul conto corrente scolastico. Succede all'Istituto Savoia Benincasa di Ancona, finito nella bufera come altre scuole in tutta Italia, per i contributi chiesti ai genitori in fase di iscrizione. Contributi sia ben chiaro assolutamente volontari in un momento in cui le scuole si vedono diminuiti i finanziamenti. Quello che però balza all'occhio a vedere questo documento che ci è stato inviato da un genitore intenzionato ad iscrivere il figlio è la poca chiarezza. Ovvero, nella domanda si legge che per essere completata necessita dell'attestazione del versamento di 130 euro. Dunque niente versamento, niente iscrizione a seguire il filo delle parole. Però, ed è questo il motivo per cui si è parlato di truffa, caso di cui si è occupata anche la trasmissione Mediaset-Leiene, nella causale solo in quel caso si parla di erogazione liberale, dunque volontaria. Insomma, prima necessaria per consegnare la domanda, ma facoltativa nell'intestazione del bollettino. Un caso che ha costretto lo stesso Ministero dell'Istruzione ad intervenire sulla vicenda. Dopo aver parlato di pratiche poco trasparenti dal di Castero, spiegano che non è superfluo precisare che i versamenti sono volontari. Una bufera che coinvolge l'Istituto Anconetano, tanto da costringere la dirigente Alessandra Rucci ad intervenire con una nota ufficiale sul sito della scuola. Il vostro contributo all'iscrizione si configura come un'erogazione liberale, si legge, con caratteri di volontarietà e che l'iscrizione non è subcondicione nell'impossibilità di corrispondere il contributo. È tuttavia importante sapere che senza il contributo delle famiglie la scuola non potrebbe garantire, se non l'ordinario funzionamento, e che tutti i progetti di ampliamento dell'offerta formativa sono possibili solo ed esclusivamente in virtù della vostra partecipazione. Dunque una netta distinzione tra l'obbligatorietà di avere una scuola pubblica e i servizi sempre più ampi e importanti che le scuole stanno fornendo, sui quali ci può essere il contributo delle famiglie.